Carissimi amici, è arrivato per il YouTube e oggi siamo con un video molto molto particolare, un video chiacchiericcio perché come ben sapete a me piace chiacchierare, piace parlare e poi non sono soltanto una persona che gioca ai videogiochi sul telefono ma sono anche una persona, un essere umano in carne ed ossa che parla a un cervello, wow, ma che bello, so chiacchierare, so parlare Allora oggi volevo parlarvi di un argomento molto importante per quanto riguarda proprio la piattaforma di YouTube perché sta cambiando YouTube in quest'ultimo periodo, è cambiata, proprio tutti quanti i canali, ma dico proprio tutti, escluso nessuno forse qualcuno si salva, sta avendo un calo delle visualizzazioni, ma proprio tutti, ma questo perché comunque immagino che molti di voi molte delle persone che prima seguivano YouTube sono magari, non so, impegnate con la scuola o comunque hanno pure perso l'interesse di guardarlo ma questo interesse comunque è basato su vari fattori e adesso vi dico anche il perché perché io comunque sto su YouTube ormai da tempo so come funziona questa piattaforma, so come vanno le oscillazioni e vi posso assicurare che un'oscillazione così bassa non c'è mai stata in tutta quanta la storia di YouTube, no no, seriamente, YouTube è sempre stato, non so, alti e bassi, alti e bassi ma stavolta c'è proprio un basso di tutta quanta la piattaforma YouTube Italia che non è mai stata vista in generale, cioè io non ho mai visto una roba del genere, mai vissuta e questo secondo me è dovuto comunque a tante cose, no, a tanti fattori poi in questo video voglio anche parlarvi, no, di quello che voglio fare, di come voglio, diciamo, affrontare questo nuovo cambiamento della piattaforma perché ovviamente se la piattaforma cambia, dobbiamo cambiare anche noi, no, anche noi YouTuber dobbiamo evolverci diventare qualcosa che si possa adattare, sempre rimanendo su ciò che ci piace vi faccio proprio l'esempio, no, di quello che è successo proprio ultimamente l'esempio ultimo prima di questo calo, c'è stata ad esempio l'esplosione di Squid Game, no, la grande popolarità Squid Game, serie Netflix seguita da tutti quanti, tutto il mondo, proprio veramente tutti persino io che non guardo serie televisive, ho visto Squid Game eppure i miei amici infatti mi dicevano, Pasco, ma è la prima volta che tu guardi una serie televisiva che è successo, che è successo? Eh beh, perché effettivamente Squid Game è stata una bellissima serie televisiva e quando una cosa va di moda, come sempre, cosa succede? Uno cerca anche un po' di sfruttare questa tendenza non c'è nulla di sbagliato, no? E quindi tutti quanti su YouTube Italia hanno iniziato a fare video su Squid Game ma proprio tutti, tutti, addirittura io mi sono messo a fare dei video su Squid Game in realtà ne ho fatti soltanto tre, poi dopo il terzo sono sincero, mi sono stufato non è che mi piacevano tanto i giochi di Squid Game, quindi preferisco la serie televisiva il fatto che, proprio fino a un mese fa, essendo che tutti quanti portavano solo gli stessi video cosa succedeva? Che uno apriva YouTube, trovava soltanto video di Squid Game Squid Game su Minecraft, su Roblox, su quel gioco, nuovo gioco Squid Game nuovo segreto Squid Game, proprio ovunque e immagino che comunque trovarsi sempre le stesse cose con il tempo fa pure passare l'interesse, no? Della persona stessa a seguire, non so, prima quel tipo di contenuto proprio la piattaforma in generale, io vedo proprio gente che hanno smesso di seguire YouTube proprio perché mi hanno detto Pasqua non è per te, io ti continuerei pure a seguire però ormai io qui su YouTube trovo sempre le stesse cose, solo gli stessi contenuti tutti quanti ormai fanno le stesse cose, c'è stato il periodo Fortnite però comunque proprio vedere sempre le stesse cose fa allontanare le persone tutti quanti, molti, ormai non stanno neanche più aprendo YouTube perché si stanno annoiando semplicemente uno giustamente dice ok, io mi scarico un'app di intrattenimento me la scarico, me la apro perché voglio divertirmi, non per annoiarmi e molte persone infatti hanno iniziato ad annoiarsi proprio su YouTube ad aprire qualunque video su YouTube molte persone si sono allontanate e per questo motivo anche che io sul canale principale ho iniziato a portare due video al giorno principalmente perché ora a me piace tanto la serie di Ice Cream sto portando sempre tutti i giorni Ice Cream ma proprio per evitare di portare solo quello tutti i giorni ho messo quella fascia oraria di video, non in Premiere dove porto altro proprio per variegare un po' i contenuti infatti in questo modo c'è chi mi segue per dei contenuti c'è gente a cui piace Ice Cream quindi continuo a seguirla infatti generalmente il canale principale non ha avuto un grande calo rispetto ad altri canali no no, io ho visto proprio altri canali ma anche proprio grossi che hanno milioni di iscritti che hanno avuto una discesa impicchiata col canale principale facendo questa strategia di doppio video per variare un po' i contenuti sì, il calo c'è stato perché l'hanno avuto tutti ma è stato molto più lieve a livello percentuale quindi su quello io non mi lamento non ho nulla da lamentarmi per quanto riguarda invece questo secondo canale Panino Tube Optional penso che anche voi l'abbiate notato il calo è stato molto molto alto come l'hanno avuto anche gli altri canali questo perché comunque porto solo un video al giorno poi anche qua portavo porto generalmente quasi le stesse cose come ad esempio Duty After Wars e molti comunque giustamente ma non vedo neanche colpe uno alla fine deve guardare il video che più gli interessa quindi molti comunque si sono pure stufati di guardare Duty After Wars ho provato comunque a portare di nuovi contenuti nuovi giochi come ad esempio Duty Simulator, altri giochi per telefono ma anche quello comunque se consideriamo il calo che c'è su YouTube quelli non è che stanno crescendo neanche hanno avuto chissà quale grande supporto ma per il semplice fatto che non c'è gente su YouTube c'è poca gente quindi giustamente se c'è poca gente le visual calano, sono poche e quindi è per questo motivo che vorrei proprio sfruttare questo calo per portare qualcosa di diverso per portare una versione differente di me un panino un po' più essere umano un po' più di Pasquale in panino tube sì, il mio vero nome è Pasquale per chi non lo sapesse quindi vorrei tipo non so fare dei video più chiacchierici per chiacchierare un po' anche insieme a voi per dare magari dei consigli di vita io sono comunque un ragazzo tra virgolette dico un ragazzo perché ormai sono verso i 30 anni o 27 anni per chi non lo sapesse ma comunque con tante esperienze di vita io ho veramente fatto tante cose nella vita tanti viaggi, tanti giri relazioni sentimentali esperienze scolastiche, universitarie cioè potrei fare un elenco esperienze sociali mi sono tirato un dito sugli occhiali meno male che non si sono sporcati la cosa più facile è avere il dito sulla lente degli occhiali e comunque anche esperienze di amicizie io conosco comunque tante persone a me piace tanto socializzare con le persone cioè io sono quella tipica persona che se esce fuori a mangiare ad un ristorante si mette a socializzare pure con la pianta messa lì di fianco al tavolo io sono di questo tipo mi piace chiacchierare ecco ho comunque conosciuto tante persone sia dal vivo sia online perché comunque la mia posizione da youtuber mi ha dato diciamo la possibilità di conoscere nuove persone proprio online proprio così sul web nuovi colleghi youtuber nuovi colleghi streamer su twitch poi arriviamo anche su twitch perché anche lì ho da parlarvi di alcune cose comunque insomma tante esperienze io posso vantarmi tra virgolette perché per me non è neanche un vanto ma comunque posso dire di avere un bagaglio di esperienze molto ampio da poter dare anche non so dei consigli di vita o anche come affrontare determinate situazioni vi faccio un esempio quando è cominciata la scuola a settembre molti di voi mi hanno scritto appunto nei commenti che erano preoccupati erano in ansia per il nuovo anno scolastico o perché molti di voi cominciavano le prime superiori delle ansie che comunque ci stavano è normale anche io quando cominciavo il nuovo anno scolastico ero sempre in agitazione no perché dicevo mo chi quale professoressa incontrerò chi sarà nei miei nuovi compagni di classe ero sempre lì in ansia perché non sapevo mai che cosa poteva esserci ecco in tal caso molti di voi mi hanno espresso le preoccupazioni e io mi sono messo a rispondere uno ad uno di quei commenti cercando di dare proprio dei messaggi motivatori perché ci tenevo ma tuttora ci tengo che tutti quanti voi che mi seguiate ma anche chi non mi segue anche se uno magari non è iscritto al mio canale io comunque ci tengo che possa avere un buon anno scolastico un buon inizio per questa scuola abbiamo ad esempio passato il periodo covid è stato un periodo molto devastante per chi seguiva le scuole io lo so perché sono stato ecco adesso ve lo dico sono insegnante io posso insegnare nelle scuole ho comunque fatto delle lezioni online tramite ero proprio seduto qua ero proprio seduto su questa sedia con questo microfono e questa webcam a fare le lezioni online tant'è che molti mi dicevano ma professore ma che bella postazione che ha è l'unico professore che ha un'ottima qualità di videocamera sì perché gli altri colleghi docenti usavano la classica videocamera del tablet che è limitata in sé vabbè a parte ciò comunque molti di loro mi raccontavano infatti le loro diciamo brutte esperienze le loro cattive sensazioni nel seguire le lezioni online e anche lì io mi sono messo lì a dire eh guarda io capisco le vostre situazioni cercherò di venirvi incontro cercavo anche di dare dei messaggi motivatori per proprio motivare lo studente a non abbattersi a cercare comunque di migliorare se stessi ed è quello che io mi piace fare ad esempio su instagram per chi mi segue su instagram io ad ogni foto metto sempre dei messaggi motivatori no? cercare di migliorare se stessi perché non c'è cosa più bella che lavorare con se stesso per raggiungere dei risultati altissimi quindi diciamo che vorrei un po' intraprendere questa strada su youtube in particolare con questo secondo canale super in youtube normale eh quello normale no lì sono soddisfatto mi piace comunque quello che faccio mi piace portare scream quindi lì comunque non portare non ci saranno cambiamenti come accadranno qua invece qua vorrei iniziare a portare oltre ai classici gameplay come ad esempio due theft wars anche dei video così dove metto a chiacchierare insieme a voi per dire le mie impressioni i miei consigli potrei raccontarvi tante tante belle cose perché mi piacerebbe comunque condividere molto molto di me ecco nella piattaforma quindi spero che possano interessarvi questi video non mi interessa se faranno tante visual poche visual tanti like poche like per me la cosa più importante è chiacchierare allegramente divertirmi nel registrare e farlo insieme a voi ecco per quanto riguarda twitch vorrei anche fare questa cosa su twitch quindi se non mi seguite io ho un canale twitch che si chiama paninotube trattino basso twitch trovate comunque qui sotto i link in descrizione così potete iscrivervi al mio canale dove poi appena potrò farò delle live anche lì inizierò a fare live belle chiacchiericce perché mi piace chiacchierare no? per quanto riguarda sempre comunque qua il canale paninotube optional un'altra diciamo conseguenza che mi ha portato a far questo è l'algoritmo di youtube caro youtube hai fatto un algoritmo che tende a dare visibilità soltanto ai video che vanno di moda vi spiego sta cosa qua perché è molto importante soprattutto se qualcuno di voi è uno youtuber tenete bene questa cosa l'algoritmo di youtube propone soltanto i video che vanno di tendenze video che hanno un contenuto di moda quindi se voi volete portare non so un gioco sconosciuto da tutti state sicuri che quel gioco non farà pochi visual farà pochi visual perché proprio youtube non lo consiglia quasi a nessuno se ad esempio vi portate un gameplay di minecraft minecraft è un gioco comunque molto popolare avrà molte più possibilità di essere visto di essere consigliato proprio dall'algoritmo stesso ed è proprio anche per questo motivo che a me non piace tanto ultimamente questa nuova strada che ha intrapreso youtube perché in questo modo sta costringendo anche noi youtuber a fare le stesse cose a fare gli stessi contenuti a fare le cose che vanno di moda io il giorno che sarò costretto a fare solo quello che va di moda perché youtube magari non piace che io faccio video di ice cream allora posso chiudere tranquillamente non voglio comunque essere costretto da youtube a fare le cose che vanno di moda solo per delle visual io sinceramente preferisco di più portare qualcosa che piace più a me anche se fa pochi visual ma almeno deve piacere e così anche da condividere insieme a voi piuttosto che fare qualcosa che va di moda e poi magari neanche mi piace sì perché ci sono molti video che io ho fatto in passato e sono sincero mi stavo annoiando a registrare cioè non vedevo l'ora che quel minutaggio del video finisse per poter chiudere la registrazione quindi è per questo motivo che vorrei un po' cambiare qua diciamo l'andamento di panino tube optional sarà un panino tube optional più chiacchiericcio ci saranno sempre i gameplay due death wars ci sarà non mi preoccupate so che molti di voi amate quella serie ma anche a me piace sinceramente io mi diverto a giocare a quel gioco poi se ci sarà anche qualcosa di interessante la porterò però vorrei anche dare questo spazio di umanità all'interno di questo canale non so se vi ci avete fatto a casa ma inizio video non vi ho chiesto di lasciare like per il semplice fatto che qua ci tenevo a parlare con voi e non faccio questo video per avere like e visualizzazioni spero che comunque potete apprezzare questo nuovo andamento e niente che dire il video finisce qua fatemi sapere cosa ne pensate spero che questo video vi sia piaciuto e niente appena ci sarà il prossimo video ve lo farò non vi preoccupate quindi i video ci saranno sempre sul canale forse non ci saranno più video tutti i giorni adesso vedrò pure come organizzarmi con le scalette e niente vabbè dai ci vediamo al prossimo video ci vediamo in premiere sul canale principale Panino Tube ciao 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 ciao